Questo ragazzo di 40 anni ha amato un uomo fuori a donna e mi racconta che ha passato un anno e mezzo in una comune dello stato di Bahia ed anche se da tempo è ritornato sarà sempre un figlio di Evangia e Evangia e mi sequenza e non è magia e accé accé fortuna a te chi dice che non è vero siamo obbligati a essere felici e mi sequenza e non è magia e accé 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 fortuna a te le storie ti chiedo in mani perché invece l'azzo è tutto e se ne va io sono a riva di un mondo e qui invece mentre vado a salvare certe volte io vorrei saperne meno di come va il mondo ormai non mi sorprende più sentire con il soffro di purezza e essere terra a salvare per di me per di me e mi sequenza e non è magia e a te 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 Grazie a tutti